Dopo esserci dilungati sul tema cicli a stato finito e cicli a stato infinito, è giunta finalmente l'ora di trattare l'argomento array. In questa lezione introdurremo quest'ultimi andandone a spulciare le caratteristiche e le sfaccettature di utilizzo che il PER mette a disposizione. Buona visione! Intanto, cosa sono gli array? Gli array, anche detti vettori, sono delle strutture dati complesse formate da una lista, quando si parla di array standard o monodimensionali, o più liste, quando invece si parla di array bidimensionali. Le liste sono delle sequenze ordinate di variabili. Inoltre, doveroso fare una precisazione, in molti si utilizzano il termine lista per indicare l'array stesso, commettendo un grosso errore. Gli array, infatti, sono i contenitori delle liste. Nello schema che ho disegnato potete vedere a cosa mi riferisco. L'array è il contenitore della lista. La lista è lo schema interno dell'array. Guardiamo il funzionamento di un array. Nell'esempio ho creato l'array X. Per creare un array, nel PERL si utilizza la keyword chiocciola seguita dal nome dell'array. In questo caso ho creato l'array X e ho assegnato al suo interno i valori 12, 23, 45, 67 e fine. Attenzione perché non è l'unico modo per assegnare più valori contemporaneamente all'interno di un array utilizzato semplicemente il metodo più diffuso e quello più comune. Quindi ho ritenuto fosse meglio per portarvi un esempio. In seguito ho un piccolo schemino che vi riporta la struttura interna della lista dell'array X al quale all'indice 0 troviamo il valore 12, all'indice 1 il valore 23, all'indice 2 il valore 45, all'indice 3 il valore 67 e all'indice 4 la stringa fine. Ho voluto anche inserire una stringa perché tante volte chi viene magari da un linguaggio come il C++ ciò lo può trovare assurdo in quanto linguaggi per l'appunto come il C++ non consentono di inserire tipi di dato diversi tra di loro all'interno dell'array perché se faccio un array di interi tutti i tipi di dato all'interno dell'array devono essere interi. non posso aggiungere stringhe invece il PERL questa limitazione non c'è. Quindi riassumendo se si accede all'indice 0 verrà restituito 12, se si accede all'indice 1 verrà restituito 23, se si accede all'indice 2 verrà restituito 45, se si accede all'indice 3 verrà restituito il 67 e se si accede all'indice 4 verrà restituita la stringa fine. Guardiamoci un esempio per chiarirci un po' le idee. Ho riproposto lo schema che ho disegnato nel documento. Ho creato l'array x a cui ho assegnato i valori 12, 23, 45, 67 e la stringa fine e lo script termina generando in output il valore che si trova all'indice 3 all'interno dell'array x. Per accedere all'elemento di un array si utilizza la keyword dollaro, si specifica il nome dell'array, si aprono le parentesi quadre e si inserisce al loro interno il numero dell'indice a cui vogliamo fare riferimento, in questo caso all'indice numero 3. Guardiamo cosa restituisce in output 67. Come vedete non fa una grinza in quanto all'indice 3 si trova il valore 67. Un altro esempio sull'utilizzo degli array. Nello script ho dichiarato l'array x dopodiché inizializzato un ciclo for nel quale dichiaro la variabile i che sarà la nostra variabile contatore. Il ciclo ci chiederà un inserimento di un valore che verrà inserito all'interno dell'array x in posizione i. I infine viene incrementata ad ogni esecuzione, quindi verranno popolati gli indici 0, 1, 2, 3, 4 dell'array x. Dopodiché setto nuovamente la variabile contatore i a 0 per poterla utilizzare nuovamente nel ciclo while. Il ciclo while stampa ad ogni interazione il valore dell'array x in indice i, incrementando infine la variabile i. guardiamo lo script in azione, inseriamo un elemento in posizione 0, inserisco 1, in posizione 1 inserisco 2, in posizione 2 inserisco 3, in posizione 3 inserisco 4, in posizione 4 inserisco 5. L'output è molto chiaro. L'array x in posizione 0 ha come valore 1, in posizione 1 ha come valore 2, in posizione 2 ha come valore 3, in posizione 3 ha come valore 4 e in posizione 4 ha come valore 5. Quale occasione migliore per introdurre la funzione qw che sta per QuotedWadeSpace? La funzione qw prende come parametro una stringa e restituisce una lista di elementi. La lista di elementi viene generata a seconda degli spazi che si trovano all'interno della stringa. In questo caso la stringa Antonio Carlo Francesco restituirà come elementi Antonio Carlo Francesco in quanto separati tra di loro dallo spazio. Per qua appunto che anche il nome della funzione è QuotedWadeSpace proprio tenendo conto del fatto che divide gli elementi a seconda degli spazi all'interno della stringa. Infatti se andiamo ad eseguire il programma come vedete restituisce Antonio Carlo Francesco come elementi ben distinti tra di loro inseriti all'interno dell'array x. Inoltre dà come possibilità quella di modificare i delimitatori di inizio e fine funzione. Ovvero qua potete vedere che dopo QuotedWadeSpace ho utilizzato le parentesi tonde per delimitare l'inizio e la fine della funzione. Però nulla mi vieta di poter utilizzare anche i punti esclamativi ad esempio. Salviamo, riesseguiamo lo script. Come vedete funziona ancora tutta meraviglia. Questa cosa è molto utile quando magari dobbiamo popolare un array con dei caratteri particolari e tutto quanto e magari utilizzando le classiche parentesi tonde potrebbe generare confusione. In questo modo ci dà la possibilità di migliorare la leggibilità del codice. Il Perl inoltre mette a disposizione un indice di array speciale. L'indice di cui vi sto parlando è questa cosa strana tra parentesi quadre indicata per l'appunto al posto dell'indice dell'array. La forma è dollaro cancelletto nome dell'array. In questo modo si ha la certezza matematica di accedere sempre all'ultimo elemento dell'array. Guardiamo lo script in azione. Come vedete restituisce Francesco. Questo poiché all'interno dell'array x Antonio è in posizione 0, quindi in prima posizione. Carlo è in posizione 1, quindi in seconda posizione e Francesco è in posizione 2, quindi in ultima posizione. L'indice controlla tutte le posizioni dell'array e restituisce l'ultima posizione disponibile, quindi quella dove si trova Francesco. Bene, detto ciò direi che per oggi è tutto e ci vediamo alla prossima.